Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Doppia seduta di allenamento per la Fiorentina in vista della ripresa del campionato di Serie A Domani pomeriggio seduta a porte aperte al Franchi con i tifosi che avranno la possibilità di essere vicini alla squadra Intanto continuano le trattative di calcio a mercato in vista della sessione invernale Dabò piace alla Spal ma si attende il giudizio di Iachini sul centrocampista prima di lasciarlo partire Incerta anche la posizione di Boateng Pradè non vorrebbe cederlo ma di fronte ad un'offerta importante potrebbe vacillare La Roma intanto segue per giugno Castrovilli che piace anche all'Inter Sul fronte entrata è sondaggio per Farias ma il Lecce non cede Intanto si continua a seguire Politano, Berardi e Suso Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola